salve signori e ben ritrovati sul canale con la posta retrograda quest'oggi mi è stato recapitato il seguente imballo di roba di che cosa si tratterà vi chiedete andiamo a vedere immediatamente la sensazione che ci sarà parecchio da disimballare qui si abbastanza cose abbiamo diversi pacchetti qui pronti andiamo un po a vedere dopo questa chilata di carta e scotch che cosa mai verrà celato da questo imballo intanto energie nuove di pokemon brutte ma la vera cosa interessante sono ovviamente questi pacchi che riconosciamo già più o meno basta con queste energie che cosa potrebbero essere ovvero certamente non di yugi ma di magic per la precisione trattasi di tre pacchetti di quarta edizione uno dei primi set usciti in italiano e per l'appunto sono per l'appunto in italiano stranamente questi pacchetti quindi per una volta non dobbiamo fare traduzioni strambe ogni tre per due e questo è molto bene e con il primo pacco così vi chiederete che cosa conterrà il secondo anche questo è farcito di energie di pokemon suppongo a manetta bene non so bene cosa farci se non accenderci la stufa probabilmente mentre quello che abbiamo qui sono di nuovo tre pacchi di magic tre per l'appunto e il set in questione è assalto uno degli ultimi set del premodern uno dei più fighi sicuramente che dal nome all'omonimo blocco formato anche da legioni e flagello e nello specifico è il set con le famose fetchlands ovvero quelle terre che si sacrificano per andare a prendere due tipi diversi di terra base specifiche per ogni carta bene questi pacchi chiaramente come al solito verranno aperti in video del canale separatamente spero che la cosa vi faccia piacere barra vi interessi se non dovesse essere così cazzi vostri e direi che per il momento dalla posta retrograda questo è tutto vi do appuntamento ai prossimi video del canale tra cui quelli degli spacchettamenti retrogradi in questione molti ringraziamenti per l'attenzione e come sempre distinti saluti grazie a tutti